Il mistero di Valle Boscombe Una mattina eravamo seduti a colazione, mia moglie e io, quando entrò la cameriera portando un telegramma. Era di Sherlock Holmes e diceva così. Avete un paio di giorni liberi? Appena ricevuto telegramma da Inghilterra occidentale in relazione alla tragedia di Boscombe Valley, felice se verrete con me. Aria e paesaggio perfetti. Partite da Paddington alle 11 e 15. «Cosa te ne pare, caro?» chiese mia moglie guardandomi. «Ci andrai?» «Davvero, non so che dire. Ho molto lavoro in questi giorni.» «Oh, Unstruther ti sostituirà. Sei un po' pallido ultimamente. Penso che cambiare aria per un po' ti farà bene, e poi i casi di Sherlock Holmes ti interessano sempre così tanto.» «Sarei davvero un ingrato se non fosse così, considerando quel che ho guadagnato grazie a uno di essi», risposi. «Ma se decido di andare devo fare le valigie immediatamente, dato che ho solo mezz'ora di tempo.» «La mia esperienza della vita di campo in Afghanistan aveva sortito perlomeno l'effetto di fare di me un celere viaggiatore. Le mie esigenze erano poche e semplici, cosicché, in meno del tempo stabilito, mi ritrovai in un taxi con la mia valigia, diretto verso la stazione di Paddington. Sherlock Holmes stava camminando su e giù davanti ai binari dei treni, con la sua figura alta e scarna, resa ancora più alta e scarna dal lungo soprabito grigio da viaggio che indossava, abbinato al cappello in tinta. «Avete fatto davvero bene a venire, Watson», disse. «Ritengo molto importante avere con me qualcuno di cui mi fido ciecamente. Gli aiuti che si possono reperire sul luogo sono sempre persone prive di valore o corrotte. Se voi rimanete qui a tenere quei due posti d'angolo, io andrò a prendere i biglietti.» Avevamo tutto lo scompartimento per noi, fatta eccezione per un'immensa quantità di carte che Holmes aveva portato con sé. Tra queste, egli rovistava e leggeva, con alcune pause in cui prendeva degli appunti e meditava. E così continuò finché non passammo Reading. Poi improvvisamente le accartocciò tutte in una gigantesca palla che gettò sulla retina dei bagagli. «Avete sentito niente del caso?», mi chiese. «Neanche una parola. Non leggo i quotidiani da un paio di giorni.» I giornali di Londra hanno pubblicato un resoconto dei fatti molto completo. Stavo proprio dando un'occhiata a tutti i quotidiani degli ultimi giorni, per essere in grado di padroneggiare tutti i particolari. Sembrerebbe, da quanto ho visto, uno di quei casi semplici che si rivelano poi estremamente difficili. Mi sembra un po' paradossale. Ma è profondamente vero. La bizzarria è invariabilmente un indizio. Più un delitto è comune e privo di particolari caratteristici, più è difficile risolverlo. In questo caso, comunque, è già stata costruita una solida accusa contro il figlio della vittima. «Si tratta di un assassino, allora?» «Beh, così si ipotizza. Io non darò niente per scontato finché non avrò l'opportunità di esaminare i fatti di persona e da vicino. Vi spiegherò adesso, in poche parole, come stanno le cose, per quanto sono stato in grado di capire fino ad ora.» Boscombe Valley è un distretto non distante da Ross, nell'Irfordshire. Il più grande proprietario terriero della zona è un certo John Turner, che ha fatto fortuna in Australia ed è ritornato in patria qualche anno fa. Egli diede una delle fattorie che possedeva, quella di Hatterley, al signor Charles McCarthy. Anche egli reduce da un lungo soggiorno in Australia. I due uomini si erano conosciuti nelle colonie, e quindi non deve stupirci che, quando stabilirono di fare ritorno nel vecchio continente, avessero deciso di abitare il più vicino possibile. Apparentemente Turner era il più ricco dei due, così McCarthy divenne suo fittavolo. Tuttavia il loro rapporto rimase, sembra, in termini di perfetta uguaglianza, dal momento che essi si frequentavano spesso. McCarthy aveva un figlio, un ragazzo di 18 anni, e Turner aveva solo una figlia, presso poco della stessa età, ed erano entrambi vedovi. Sembra che evitassero di frequentare le famiglie delle proprietà limitrofe e che conducessero vita ritirata, sebbene i due McCarthy fossero appassionati di sport e si facessero spesso vedere alle gare di corsa del vicinato. McCarthy aveva due inservienti, un uomo e una ragazza. Turner aveva molto personale, almeno una mezza dozzina tra uomini e donne. Questo è tutto ciò che sono riuscito a sapere riguardo alle due famiglie. Ma ora veniamo ai fatti. Il 3 giugno, vale a dire lunedì scorso, McCarthy lasciò casa sua, a Aetherley, alle 15 circa, e si diresse a piedi verso il laghetto di Boscomb, un piccolo lago formato da un torrentello che scorre lungo Boscomb Valley. Quella mattina si era recato a Ross con il suo stagliere, al quale aveva detto di avere fretta, perché aveva un appuntamento importante alle tre. Da quell'appuntamento non tornò vivo. Tra la fattoria di Aetherley e il laghetto di Boscomb c'è un quarto di miglio, e mentre percorreva questo tratto di strada, McCarthy è stato visto da due persone. Una era una vecchia, del cui nome non si fa menzione, e l'altro era un certo William Crowder, un guardacaccia al servizio del signor Turner. Entrambi i testimoni hanno dichiarato che il signor McCarthy era da solo. Il guardacaccia ha aggiunto che un paio di minuti dopo aver visto passare il signor McCarthy, ha visto anche il figlio di quest'ultimo, il signor James McCarthy, che andava nella stessa direzione del padre, con un fucile sotto il braccio. Crowder è convinto che il vecchio McCarthy fosse ancora visibile, e che il figlio lo stesse seguendo. Non ha più pensato a questo fatto, fino a quando quella sera ha appreso la notizia della tragedia che era avvenuta. Ma i due McCarthy furono visti anche dopo che William Crowder, il guardacaccia, li ebbe persi di vista. Il laghetto di Boscomb è circondato da un fitto bosco, e solo intorno alle sponde vi è uno spiazzo d'erba, dove crescono anche delle canne. Una ragazza di 14 anni, Patience Moran, che è la figlia del custode della proprietà di Boscomb Valley, si trovava nel bosco a raccogliere dei fiori. La ragazza sostiene di aver visto, mentre si trovava lì, proprio ai margini del bosco e vicino al laghetto, il signor McCarthy e suo figlio, i quali, a quanto pare, stavano avendo un violento litigio. Patience sentì che il vecchio McCarthy usava delle parole molto forti nei confronti del figlio, e vide quest'ultimo sollevare la mano come se stesse per colpire il padre. La ragazza si spaventò a tal punto della loro violenza, che scappò via, e quando giunse a casa, raccontò alla madre di aver lasciato i due McCarthy che litigavano vicino al laghetto di Boscomb, e di aver paura che stessero per venire alle mani. Aveva appena finito di parlare, quando il giovane McCarthy arrivò correndo alla casa del custode, dicendo che aveva trovato suo padre morto nel bosco, e chiedendo l'aiuto dell'uomo. Era molto agitato, e non aveva con sé né il cappello né il fucile, mentre la mano e la manica destre erano macchiate di sangue fresco. Seguendolo, trovarono il cadavere disteso sull'erba accanto al laghetto. La testa era stata colpita ripetutamente con qualche oggetto pesante. Le ferite erano tali che avrebbero potuto benissimo essere state inferte con il calcio del fucile del figlio, che è stato trovato sull'erba, a pochi passi dal corpo. Viste le circostanze, il giovane è stato immediatamente arrestato, ed essendo stato il risponso dell'inchiesta di martedì di omicidio colposo, egli è stato condotto mercoledì davanti ai magistrati di Ross, i quali sottoporranno il caso alla prossima assise. Questi sono i fatti principali della vicenda, come sono stati esposti dal medico legale e dalla polizia. Mi riesce difficile immaginare un caso più intricato di questo, osservai. Non ne ricordo un altro in cui le circostanze indicassero il colpevole in maniera così precisa. Le circostanze traggono in inganno, mi rispose Holmes pensieroso. Sembra che indichino una pista in maniera inequivocabile, ma se spostate un pochino il vostro punto di vista, a volte scoprite che esse indicano altrettanto inequivocabilmente una pista completamente diversa. Bisogna ammettere a ogni modo che la situazione sembra molto grave per il giovane, ed è senza dubbio possibile che egli sia effettivamente il colpevole. Comunque ci sono molte persone dei dintorni che credono nella sua innocenza, e tra queste la signorina Turner, la quale ha incaricato Lestrade, che forse ricorderete per il suo studio in rosso, di risolvere il caso a favore del giovane. Lestrade, alquanto perplesso, ha chiamato me, ed è per questo che due gentiluomini di mezzetà stanno precipitandosi verso ovest a una velocità di 50 miglia all'ora, anziché starsene tranquillamente a casa loro a digerire la colazione. «Temo», dissi io, «che i fatti siano talmente ovvi che caveremo ben poco da questo caso». «Non vi è niente di più ingannevole di un fatto ovvio», mi rispose il grande detective ridendo. «Inoltre ci potrebbe capitare di imbatterci in altri fatti altrettanto ovvi che potrebbero non essere apparsi tali al signor Lestrade. Mi conoscete troppo bene per credere che io mi dia delle arie quando dico che io confermerò o distruggerò la sua teoria impiegando dei mezzi dei quali egli è piuttosto incapace di avvalersi o addirittura di capire». Per prendere il primo esempio che mi viene in mente, io sono del tutto sicuro che la finestra della vostra camera da letto si trova sul lato destro della vostra stanza e dubito che il signor Lestrade si sarebbe accorto di una cosa così evidente. «Come diavolo, mio caro amico, vi conosco bene, conosco la precisione militaresca che vi caratterizza. Voi vi fate la barba ogni mattina e questa stagione la fate alla luce del sole, ma dato che la vostra rasatura si fa via via meno accurata man mano che ci si avvicina al lato sinistro del viso, fino ad assumere attorno alla zona dell'angolo della mascella un aspetto decisamente trasandato, è senza dubbio molto chiaro che quel lato è meno illuminato dell'altro. Non riesco a credere che un uomo con le vostre abitudini possa guardarsi allo specchio in piena luce ed essere soddisfatto di un risultato del genere. Vi ho citato questo fatto solo come banale esempio del mio metodo che si avvale dell'osservazione e procede in maniera induttiva. È possibile che esso si riveli d'aiuto nel corso dell'indagine che ci aspetta. Ci sono inoltre uno o due punti di importanza minore che sono emersi durante l'inchiesta e che vale la pena prendere in considerazione. Quali sono? Sembra che l'arresto del giovane non sia avvenuto immediatamente, ma al suo ritorno alla fattoria di Atley. Quando l'ispettore del distretto lo ha informato che doveva considerarsi in stato di arresto, il giovane McCarty ha detto di non essere sorpreso di apprendere quella notizia e di meritarselo. Questa sua osservazione ha sortito l'effetto, piuttosto naturale del resto, di dissipare ogni traccia di dubbio che la giuria avrebbe potuto ancora avere sulla sua colpevolezza. «Se è trattato di una confessione!» esclamai. «No, dal momento che è stata seguita da una dichiarazione di innocenza. Giungendo alla fine di una serie di eventi come quelli occorsi, si è trattato perlomeno di un'affermazione sospetta.» «Al contrario», osservò Holmes, «è lo spiraglio più chiaro che in questo momento riesco a intravedere fra tutte queste nuvole nere. Indipendentemente dal fatto che sia innocente o meno, non potrebbe essere tanto imbecille da non rendersi conto che le circostanze sono decisamente a suo sfavore. Se si fosse dimostrato sorpreso di venire arrestato o si avesse palesato indignazione per questo fatto, avrei guardato a lui con molto sospetto, perché tali reazioni di sorpresa e di rabbia non sarebbero state naturali, date le circostanze, anche se a chi ha qualcosa da nascondere possano sembrare la miglior linea di condotta da seguire. Il suo aver accettato la situazione in maniera così franca dovrebbe essere indice o della sua innocenza o del fatto che è un uomo dotato di un autocontrollo e di una fermezza notevoli. Per quanto riguarda la sua affermazione circa il meritarsi ciò che gli era accaduto, direi che è piuttosto comprensibile da parte sua aver detto una cosa del genere. Se consideriamo che egli quando ha pronunciato quella frase si trovava accanto al corpo del padre e che non c'è alcun dubbio che proprio quel giorno il giovane avesse dimenticato i suoi doveri filiali fino al punto di alzare la voce con suo padre e di aver secondo la testimonianza così importante fornitaci dalla ragazzina aver addirittura alzato la mano su di lui come per colpirlo. L'autorimprovero che si è rivolto e il pentimento che ha dimostrato con quella osservazione mi sembrano segni di una mente innocente piuttosto che di una colpevole. Scossi il capo. Molti uomini sono stati impiccati sulla base di prove di gran lunga meno schiaccianti di queste osservai. È così ma è anche vero che molti uomini sono stati impiccati ingiustamente. E qual è il resoconto dei fatti fornito dal giovane? Non è, temo, molto incoraggiante per chi sostiene la sua innocenza anche se ci sono uno o due punti piuttosto suggestivi. Lo trovate qui e potete leggerlo da voi. Estrasse dalla sua borsa una copia del quotidiano locale della contea dell'Earfordshire e dopo aver cercato la pagina con l'articolo in questione mi indicò il brano in cui lo sfortunato giovane fornì la sua versione dei fatti occorsi. Diceva così Il signor James McCarthy l'unico figlio della vittima fu poi chiamato a testimoniare e rilasciò la seguente dichiarazione Ero stato via da casa per tre giorni mi ero recato a Bristol e quella mattina di lunedì scorso il giorno 3 ero appena ritornato. Mio padre non era in casa al mio arrivo e io fui informato dalla cameriera che si era recato a Ross con John Cobb lo stalliere. Poco dopo il mio ritorno sentì provenire dal giardino il rumore delle ruote del suo calesse e guardando dalla finestra lo vidi scendere e dirigersi rapidamente fuori dal cortile anche se non sapevo in che direzione stesse andando. Allora presi il fucile e uscì anch'io dirigendomi verso il laghetto di Boscomb con l'intenzione di recarmi a caccia di conigli in una zona del bosco che ne è piena e che si trova dall'altro lato della collina. Per strada vidi William Crowder il guardia caccia come egli ha dichiarato nella sua deposizione ma sbaglia se pensa che stessi seguendo mio padre. Non avevo la minima idea che egli mi stesse precedendo. Quando mi trovavo a circa cento yard dal laghetto sentì il grido COO che era il consueto richiamo tra mio padre e me. Quindi affrettai il passo continuando a procedere diritto e lo trovai in piedi accanto al laghetto. Mi parve molto sorpreso di vedermi e mi chiese piuttosto bruscamente che cosa stessi facendo là. Seguì una conversazione che degenerò in parole pesanti e ci mancò poco che non arrivassimo alle mani dato che mio padre era un uomo dal temperamento molto violento. Vedendo che la sua collera stava divenendo quasi incontrollabile lo lasciai incamminandomi verso la fattoria di Atherley. Non avevo percorso più di centocinquanta yard comunque quando udì un grido alle mie spalle che mi fece tornare sui miei passi di corsa. Trovai mio padre disteso a terra che stava agonizzando con la testa ferita in modo orrendo. Lasciai cadere il fucile e presi mio padre tra le braccia ma aspirò quasi subito. Rimasi incinocchiato lì per alcuni minuti e poi mi incamminai verso la strada del signor Turner dal momento che era la più vicina per chiedere aiuto. Non vidi nessuno accanto a mio padre quando ritornai e non ho idea di come si sia procurato quelle ferite. Non era un uomo molto popolare a causa del suo modo di fare piuttosto freddo e scostante ma non aveva per quanto ne so io alcun nemico. Non so nient'altro. Il coroner vostro padre ha detto qualcosa prima di morire? Teste ha mormorato qualche parola ma io sono riuscito ad afferrare solo qualche allusione a un ratto. Il coroner e che cosa avete capito? Teste le sue parole non avevano alcun significato per me pensai che stesse delirando. Il coroner Qual è stato il motivo per cui vostro padre e voi avevate avuto quell'ultimo litigio? Teste Preferirei non rispondere. Il coroner Temo di dovervi sollecitare a farlo. Teste Mi è davvero impossibile dirvelo. Posso assicurarvi che non ha niente a che vedere con la tragedia che seguì. Il coroner Questo lo deve decidere la corte. Devo informarvi che il vostro rifiuto di rispondere pregiudicherà la vostra posizione in maniera notevole in ogni procedimento che in futuro potrebbe essere preso. Teste Devo comunque rifiutare di rispondervi. Il coroner Se ho capito bene il grido COO era un segnale consueto tra vostro padre e voi. Teste Sì è così. Il coroner E come mai allora egli ha lanciato questo segnale prima di vedervi e prima ancora di sapere che eravate tornato da Bristol. Teste molto confuso Non lo so Un giurato Non avete visto niente che vi abbia insospettito mentre stavate tornando indietro dopo aver sentito vostro padre urlare e dopo averlo trovato mortalmente ferito? Teste Niente di preciso Il coroner Che cosa intendete dire? Teste Ero talmente sconvolto ed emozionato quando mi sono precipitato fuori dal bosco che non ero in grado di pensare a nient'altro che a mio padre. Tuttavia ho avuto la vaga sensazione che mentre correvo ci fosse qualche cosa per terra alla mia sinistra Mi sembrò che fosse qualche cosa di colore grigio una specie di soprabito o una coperta forse Quando mi alzai per andare a cercare aiuto mi guardai in giro cercando questo oggetto ma non c'era più Intendete dire che era sparito prima che andaste a chiamare aiuto? Sì Era sparito E non siete in grado di dire di che cosa si trattasse? No Ho semplicemente avuto la sensazione che ci fosse qualcosa A che distanza dal corpo? Più o meno una dozzina di yard E a che distanza dal margine del bosco? Più o meno la stessa Dunque se è stato portato via ciò è avvenuto mentre vi trovavate a circa dodici yard di distanza Sì ma voltavo le spalle a questo oggetto Così si concluse l'interrogatorio del teste Vedo Dissi io non appena ebbi finito di leggere l'articolo Che il coroner è stato piuttosto severo con McCarty nelle sue osservazioni conclusive Richiama l'attenzione e ha ragione sul fatto che il padre ha pronunciato il loro segnale di richiamo prima di aver visto il figlio e anche sul suo rifiuto di fornire i dettagli della conversazione con il padre e sullo strano resoconto delle ultime parole di questi tutti fatti come egli fa notare che sono decisamente contro il giovane McCarty Holmes rise piano tra sé e sé e s'allungò sul sedile imbottito Sia voi che il coroner avete la stessa difficoltà disse nell'isolare i fatti di notevole importanza che sono a favore del giovane non vi rendete conto che alla fin fine lo state accusando alternativamente di avere troppa immaginazione e di averne troppo poca troppo poca se non è stato in grado di inventare una ragione per il litigio in modo da accattivarsi le simpatie della giuria troppa se si è inventato una cosa così strana come il riferimento che il padre morente avrebbe fatto al ratto e l'incidente del pezzo di stoffa scomparso no signore io affronterò il caso partendo dal presupposto che ciò che dice quest'uomo è vero e vedremo dove ci porterà questa ipotesi e ora mi dedicherò al mio Petrarca in formato tascabile e non dirò un'altra parola su questo caso finché non saremo sul luogo del delitto pranziamo a Swindon e vedo che ci saremo tra venti minuti erano quasi le quattro quando finalmente dopo essere passati attraverso la bellissima Strood Valley e sopra il largo scintillante Severn ci trovammo nella graziosa e piccola cittadina di Ross ci aspettava all'arrivo del treno un uomo che aveva tutta l'aria di essere un investigatore magro e dall'aspetto furtivo e scaltro nonostante lo spolverino marrone chiaro e i gambali di pelle che indossava in segno di rispetto per i rustici dintorni non ebbe alcuna difficoltà a riconoscere in quell'uomo Lestrade di Scotland Yard assieme a lui ci dirigemmo all'Earford Arms dove c'era già una stanza prenotata a nostro nome ho prenotato una carrozza disse Lestrade mentre prendevamo il tè so che siete molto attivo di carattere e che non sareste stato in pace finché non vi foste trovato sul luogo del delitto molto gentile da parte vostra replicò Holmes è solamente una questione di pressione barometrica Lestrade sembrava stupefatto non sono sicuro di riuscire a seguirvi cosa dice il barometro 29 vedo niente vento non una nuvola in cielo ho un pacchetto di sigarette nuovo che attende di essere fumato e il divano dell'hotel di una qualità di gran lunga superiore alla solita non credo sia probabile che usi la carrozza questa sera Lestrade rise con indulgenza avete senza dubbio già tratto le vostre conclusioni dai giornali disse il caso è chiarissimo e più ci si inoltre in esso più chiaro diventa ma nonostante ciò non si può dire di no a una signora specialmente a una come questa ha sentito parlare di voi e vuole la vostra opinione anche se le ho detto ripetutamente che non c'era niente che voi poteste fare che non avessi già fatto io a proposito ecco la sua carrozza aveva appena terminato di pronunciare le ultime parole quando irruppe nella stanza una delle giovani più belle che avessi visto in vita mia con gli occhi viola che brillavano le labbra socchiuse e il viso lievemente arrossato pareva completamente dimentica del suo naturale riservo che era stato sopraffatto dall'agitazione e dalla preoccupazione oh signor Sherlock Holmes esclamò spostando lo sguardo da lui a me per poi fermarsi con rapida intuizione femminile sul viso del mio collega sono così felice che siate venuto sono venuta fin qui apposta per dirvelo so che non è stato James lo so e voglio che anche voi iniziate il vostro lavoro con questa convinzione non dubitatene mai ci conosciamo da quando eravamo bambini e conosco i suoi difetti come nessun altro ma non farebbe male a una mosca è troppo buono questa accusa è semplicemente assurda per tutti noi che lo conosciamo spero che riusciremo a dimostrare la sua innocenza state pur certa che farò tutto quanto in mio potere ma voi avete certamente letto il verbale dell'accaduto ne avete già tratto qualche conclusione riuscite a vedere qualche via d'uscita qualche scappatoia non pensate anche voi che sia innocente ritengo molto probabile che lo sia ecco esclamò gettando indietro il capo e lanciando alle strade uno sguardo di sfida avete sentito mi date le speranze le strade si strinse nelle spalle temo che il mio collega sia stato un po' troppo precipitoso nel trarre le sue conclusioni disse ma ha ragione oh io lo so che ha ragione non è stato James e riguardo al suo litigio con il padre sono sicura che la ragione per cui non ne ha voluto dire la causa al coroner e che ne ero coinvolta anch'io in che modo chiese Holmes non è questo il momento per nascondere nulla James e suo padre avevano dei dissapori a causa mia il signor McCarty caldeggiava un matrimonio tra noi James e io ci siamo sempre voluti bene come fratello e sorella ma lui naturalmente è molto giovane e non ha ancora visto abbastanza della vita e e beh ovviamente non si sentiva ancora pronto per compiere un passo del genere per questa ragione litigavano spesso e anche questa volta ne sono certa il motivo era il solito e vostro padre chiese Holmes era favorevole a questa unione no neanche lui era propenso l'unica a volerla era il signor McCarty la ragazza arrossì lievemente quando si accorse dello sguardo acuto e indagatore che Holmes le aveva rivolto grazie per questa informazione disse lui posso vedere vostro padre se passo da voi domani mattina temo che il medico non ve lo consentirà il medico sì non avete saputo il mio povero papà non è in forze da molti anni ma questi ultimi avvenimenti l'hanno buttato a terra completamente si è messo a letto e il dottor Willows dice che è ridotto male e che il suo sistema nervoso ha ceduto il signor McCarty era l'unica persona ancora viva che aveva conosciuto papà ai vecchi tempi a Victoria ah a Victoria questo è importante sì nelle miniere proprio così nelle miniere d'oro dove immagino il signor Turner ha fatto fortuna sì esatto grazie signorina Turner mi siete stata di grande aiuto domani mi direte se ci sono delle novità sono certa che andrete in prigione a trovare James o se lo farete signor Holmes ditegli che io so che è innocente lo farò signorina Turner non dubitatene devo andare a casa ora perché papà sta molto male e ha bisogno della mia presenza arrivederci e che Dio vi assista nel vostro lavoro uscì dalla stanza impulsivamente come era entrata e poco dopo sentimmo il rumore delle ruote della sua carrozza allontanarsi lungo la strada mi meraviglio di voi Holmes disse l'estrade con dignità dopo alcuni minuti di silenzio perché alimentate delle speranze che sarete costretto a deludere io non sono particolarmente tenero di cuore ma questa la chiamo crudeltà credo di avere in mente un modo per tirare James McCarthy fuori da questa storia ribatte Holmes avete un permesso per andare a fargli visita in prigione sì ma solo per voi e me allora dovrò riconsiderare la mia decisione di non uscire siamo ancora in tempo per prendere un treno per Hereford e vedere il giovane questa sera ampiamente bene allora facciamo così Watson temo che a voi sembreranno lunghissime ma starò via solo un paio d'ore andai a piedi fino alla stazione con loro e poi mi misi a bighellonare per le strade della cittadina per tornare infine all'hotel dove mi distesi sul divano cercando di interessarmi a un romanzo dalla copertina gialla l'intreccio e la trama della storia erano così deboli però se paragonati al profondo mistero in cui stavamo annaspando e mi ritrovai talmente spesso a fantasticare con l'attenzione rivolta ai recenti fatti che alla fine gettai il libro dall'altra parte della stanza e mi dedicai interamente a meditare sugli eventi della giornata supponendo che la versione dei fatti fornita da quello sventurato giovane rispondesse davvero e in maniera puntuale alla realtà allora quale macchinazione infernale quale calamità straordinaria e assolutamente imprevedibile sarebbe potuta succedere tra il momento in cui il giovane aveva lasciato il padre e quello in cui richiamato dalle urla di quest'ultimo si era precipitato nella radura era qualcosa di terribile e mortale che cosa poteva essere la natura delle ferite non avrebbe forse potuto dire qualcosa al mio istinto di medico suonai il campanello e chiesi che mi venisse portato il settimanale della contea che conteneva il verbale dettagliato dell'inchiesta nella deposizione del chirurgo si affermava che il terzo posteriore dell'osso parietale sinistro e la metà sinistra dell'occipitale erano stati sfondati da un violento colpo inferto da un oggetto non appuntito con un dito segnai la parte interessata sulla mia testa era chiaro che un colpo del genere doveva essere stato vibrato da dietro questo era almeno in parte a favore dell'accusato dato che quando era stato visto il giovane stava litigando faccia a faccia con il padre in ogni caso non significava un granché dal momento che il vecchio avrebbe potuto voltargli le spalle prima che il colpo venisse vibrato ciò nonostante forse valeva la pena di richiamare l'attenzione di Holmes su quel punto e poi c'era quello strano riferimento fatto in punto di morte a un ratto che cosa poteva voler dire non poteva trattarsi di delirio di solito un uomo che muore all'improvviso per un colpo di quel genere non delira no era più probabile che si trattasse di un tentativo da parte di McCarthy di spiegare in quale modo si era compiuto il suo destino ma che cosa poteva indicare in vano mi spremetti le meningi per trovare qualche possibile spiegazione e c'era anche l'incidente di quel pezzo di stoffa visto dal giovane McCarthy ammettendo che fosse vero l'assassino fuggendo doveva aver perso qualche indumento presumibilmente il sopravvito e doveva aver avuto tanto sangue freddo da tornare sul luogo del delitto a riprenderselo attendendo il momento in cui il giovane McCarthy era inginocchiato e gli volgeva la schiena a meno di una dozzina di passi da lui che intrico di mistero ed improbabilità era l'intera faccenda non mi meravigliava affatto l'opinione che se n'era fatta alle strade ma avevo talmente tanta fiducia nell'intuito di Sherlock Holmes che non dovevo perdere le speranze perlomeno finché ogni fatto nuovo non avesse contribuito a rafforzare la sua convinzione che il giovane McCarthy fosse innocente era tardi quando Sherlock Holmes fece ritorno rientrò da solo perché le strade aveva preso alloggio in città la pressione si mantiene alta mi fece notare sedendosi è importante che non piova prima che riusciamo a ispezionare il terreno d'altro canto bisogna essere freschi e in perfetta forma per un lavoro del genere e io non voglio dedicarmici quando sono fiaccato da un lungo viaggio ho visto il giovane McCarthy e che cosa avete saputo da lui? niente non è stato in grado di gettare luce assolutamente no ad un certo punto ero propenso a credere che egli sapesse chi era stato ma stesse cercando di proteggerlo o proteggerla ma ora sono convinto che egli stesso è stupefatto come tutti non è un ragazzo di ingegno molto brillante anche se di aspetto piacevole e direi di buoni sentimenti non si può certo dire che abbia buon gusto osservai se è vero che è contrario al matrimonio con una ragazza affascinante come questa signorina Turner ah questa è una storia piuttosto triste questo giovane è pazzamente follemente innamorato di lei ma circa due anni fa quando era solo un ragazzo e prima che la conoscesse bene come la conosce ora dato che lei ha studiato per cinque anni via da casa quell'idiota non ha trovato niente di meglio da fare che cadere nelle grinfie della cameriera di un bar di Bristol e l'ha sposata civilmente nessuno sa assolutamente niente di questa storia ma potete immaginare come deve essere stato straziante per quel giovane essere rimproverato perché non ha consentiva a fare ciò per cui egli avrebbe dato un occhio ma che sapeva essere assolutamente impossibile ed è questo il motivo della rabbia che gli ha fatto perdere il lume della ragione e alzare la mano su suo padre quando quest'ultimo nel corso del loro ultimo colloquio lo stava pungolando perché si decidesse a chiedere alla signorina Turner di sposarlo d'altro canto egli non aveva alcuna fonte di reddito per potersi mantenere da solo e suo padre che tutti dicono essere stato un uomo molto duro se fosse venuto a conoscenza della verità lo avrebbe completamente abbandonato a se stesso è con la moglie che il giovane ha trascorso quei tre giorni a Bristol e suo padre non sapeva dove fosse prendete nota di questo punto è importante comunque dal male è risultato qualcosa di positivo dal momento che la cameriera apprendendo dai giornali che il marito si trova in un guaio serio e che è probabile che venga impiccato lo ha abbandonato scrivendogli che ha già un marito alle bermuda e che di conseguenza non esiste davvero alcun legame tra loro due credo che questa notizia sia servita a consolare il giovane McCarty per tutto quello che ha sofferto ma se lui è innocente chi è stato allora ah chi richiamerei la vostra attenzione in maniera particolare su due punti il primo è che la vittima aveva un appuntamento al laghetto con qualcuno e che quel qualcuno non poteva essere suo figlio dato che il figlio era via e lui non sapeva quando sarebbe ritornato il secondo è che la vittima è stata sentita gridare Co prima di sapere che suo figlio era ritornato questi sono i due punti cruciali da cui dipende tutto il caso e ora parliamo di George Meredith se non vi dispiace e lasciamo tutte le questioni minori a domani non era piovuto come Holmes aveva previsto e il cielo era brillante e terzo senza una sola nuvola alle nove in punto l'estrade venne a prenderci con la carrozza e partimmo diretti alla fattoria di Hatterley e al laghetto di Boscomb ci sono delle brutte notizie questa mattina osservò l'estrade si dice che il signor Turner stia così male che si dispera ormai di salvarlo è anziano immagino disse Holmes ha circa 60 anni ma il suo fisico si è indebolito a causa della vita che ha condotto all'estero e inoltre non era in buona salute già da qualche tempo questa faccenda l'ha colpito molto e ha avuto su di lui un effetto davvero negativo era un vecchio amico di McCarthy e potrei aggiungere un suo grande benefattore poiché ho saputo che gli ha dato in concessione la fattoria a Hatterley per niente davvero questo è interessante ribatte Holmes oh sì e lo ha aiutato in cento altri modi tutti qui parlano della sua magnanimità nei confronti di McCarthy veramente non vi sembra strano che McCarthy nonostante sembrasse avere ben poco di suo e fosse così obbligato nei confronti di Turner parlasse con tanta leggerezza del matrimonio tra suo figlio e la figlia di Turner la quale presumibilmente è l'erede della proprietà come se si trattasse solo di proporlo e poi tutto il resto sarebbe seguito senza problemi ed è ancora più strano se consideriamo che lo stesso Turner era contrario questo ce lo ha detto la figlia non ne deducete niente siamo arrivati alle deduzioni e alle supposizioni disse Lestrade facendomi l'occhiolino mi sembra già abbastanza difficile affrontare i fatti Holmes senza deconcentrarci su teorie e fantasie avete ragione replicò Holmes con tono mite è vero che voi trovate molto difficile affrontare i fatti comunque io ho colto un fatto che a voi sembra difficile afferrare replicò Lestrade accalorandosi e cioè che il vecchio McCarthy ha incontrato la morte per mano del giovane McCarthy e tutte le teorie volte a dimostrare il contrario sono pura fantasia beh meglio che niente replicò Holmes ridendo ma se non mi sbaglio quella a sinistra è la fattoria di Hatterley sì è così confermò Lestrade si trattava di un edificio imponente dall'aspetto confortevole a due piani con il tetto in ardesia e grosse chiazze di muschio sui muri grigi tuttavia gli scuri abbassati e il fatto che dai camini non uscisse fumo conferivano alla costruzione un'aria quasi sofferente come se il peso della tragedia gravasse ancora sopra di essa bussamo alla porta e ci venne ad aprire la cameriera che su richiesta di Holmes ci mostrò gli stivali che il suo padrone indossava al momento della morte e anche un paio che appartenevano al figlio anche se non erano quelli che portava quando era stato commesso il delitto dopo aver misurato quelle calzature con grande cura e da sette o dotto angolature differenti Holmes desiderò essere condotto nel cortile dal quale tutti noi ci incamminammo lungo il tortuoso sentiero che porta al laghetto di Boscomb Sherlock Holmes si trasformava quando era intento a seguire una pista come in questo caso le persone che vedevano in lui solamente il calmo pensatore e l'uomo di logica di Baker Street non lo avrebbero riconosciuto in quel momento era diventato tutto rosso in viso e poi si era rabbuiato le sopracciglia erano tese e parevano due sottili linee nere mentre gli occhi scintillavano da sotto di esse con un luccichio d'acciaio il volto era rivolto in basso verso terra le spalle chinate le labbra serrate e le vene sporgevano dal lungo collo vigoroso come dei pezzi di fune le narici sembravano dilatate a causa di una lussuria puramente animale per la caccia e la sua mente era così assolutamente concentrata su ciò che aveva davanti che eventuali domande ed osservazioni gli entravano dalle orecchie senza sortire alcun effetto o al massimo provocavano come tutta risposta solo un grugnito brusco e spazientito procedeva lungo il sentiero che si dipanava attraverso i prati con grande agilità e nel massimo silenzio e continuò così finché non giungemmo al bosco che si trovava vicino al laghetto di Boscomb il terreno era umido e paludoso come in tutta la regione e c'erano molte orme di piedi sia sul sentiero che tra la corta erba che lo fiancheggiava su entrambi i lati a volte Sherlock Holmes si fermava e rimaneva immobile per qualche istante e a volte invece abbandonava il sentiero per delle brevi incursioni nei prati circostanti le strade e io camminavamo dietro di lui il detective indifferente e con un atteggiamento di superiorità mentre io osservavo il mio amico con un interesse che mi derivava dalla convinzione che tutte le sue azioni erano volte a un fine ben preciso il laghetto di Boscomb che è un piccolo specchio d'acqua circondato da un canneto e di un diametro di circa 50 yard si trovava proprio al confine tra la fattoria di Atherley e il parco privato del facoltoso signor Turner tra gli alberi di uno dei boschi che delimitano il laghetto si potevano intravedere i rossi pinnacoli svettanti che contrassegnavano il sito dell'abitazione del ricco proprietario terriero sul lato della fattoria di Atherley il bosco era molto fitto e vi era una stretta cintura di erba bagnata che si trovava a una distanza di circa una ventina di passi tra il margine del bosco e le canne che circondavano il lago le strade ci indicò il punto esatto in cui era stato trovato il cadavere e devo dire il terreno era talmente umido che fu tranquillamente in grado di distinguere le tracce lasciate dalla caduta dell'uomo per Holmes come potevo dedurre dall'espressione concentrata del suo viso e dagli occhi attenti c'erano ancora molte cose da leggere su quell'erba calpestata fece un giro attorno al lago correndo come un cane che sta seguendo una pista e poi si rivolse alle strade che cosa cercavate nel laghetto gli chiese ho usato un rastrello pensavo che potesse esserci qualche arma o delle altre tracce ma come diavolo oh via via non ho tempo il segno del vostro piede sinistro con quel vezzo che avete di camminare con la punta rivolta verso dentro è dappertutto anche una talpa sarebbe in grado di seguire le vostre tracce che in questo punto svaniscono tra le canne o come sarebbe stato tutto più semplice se io fossi venuto qui prima che arrivassero tutti gli altri a sguazzare qui intorno come una mandria di bufali ecco è da questa parte che è arrivato il gruppo con il custode e ha coperto tutte le tracce intorno al corpo per sei o dottopiedi Holmes estrasse dalla tasca una lente di ingrandimento e si distese sul suo impermeabile per vedere meglio continuando a parlare per tutto il tempo ma più a se stesso che a noi ecco questi sono i piedi del giovane McCarty per due volte camminava e una volta correva agilmente infatti le suole delle scarpe sono ben delineate sul terreno mentre i talloni si vedono appena questo sembra confermare la sua versione dei fatti si è messo a correre quando ha visto suo padre steso a terra queste invece sono le orme che ha lasciato il padre camminando avanti e indietro e allora questo cos'è? è il segno che ha lasciato il calcio del fucile quando il giovane lo ha appoggiato a terra mentre ascoltava suo padre e queste? aha che cosa abbiamo qui? delle orme lasciate da qualcuno che camminava in punta di piedi in punta di piedi e sono anche delle orme quadrate degli stivali proprio insolite vengono vanno ritornano è chiaro che era per il soprabito ora da dove venivano? Holmes continuava a correre avanti e indietro a volte perdendo e altre ritrovando la pista che stava seguendo finché non ci ritrovammo dentro il bosco all'ombra di un grande faggio l'albero più grosso dei dintorni Holmes ritrovò la pista al lato dell'albero e si distese di nuovo a faccia a terra emettendo un piccolo grido di soddisfazione rimase in quella posizione a lungo a rovistare tra foglie e rametti secchi raccogliendo qualcosa che a me parve polvere che mise in una busta ed esaminando con la lente di ingrandimento non solo il terreno ma addirittura la corteccia dell'albero per quanto gli fosse possibile tra il muschio giaceva una pietra seghettata che fu anch'essa accuratamente esaminata e quindi raccolta poi si mise a seguire un sentiero che si snodava attraverso il bosco finché non giunse sulla strada asfaltata dove tutte le tracce ovviamente si perdevano è un caso di notevole interesse osservò ritornando al suo consueto modo di fare immagino che questa casa grigia sulla sinistra sia l'abitazione del custode credo che entrerò a scambiare due parole con Moran o gli lascerò un messaggio dopodiché potremo ritornare indietro a pranzare voi due potete intanto incamminarvi verso la carrozza io vi raggiungerò tra un attimo ci vollero circa una decina di minuti prima che raggiungessimo la carrozza e ci dirigessimo verso Ross con Holmes che portava ancora con sé la pietra che aveva raccolto nel bosco questa può interessarvi l'estrade fece notare il mio amico al detective mostrandogliela è l'arma del delitto non vedo alcun segno infatti non ce ne sono come fate a saperlo allora l'erba stava crescendo sotto a questo sasso si trovava lì solo da un paio di giorni non c'era alcuna indicazione di dove potesse provenire corrisponde alle ferite non c'è traccia di alcun'altra arma che possa essere stata impiegata nel delitto e l'assassino è un uomo alto mancino zoppica un po' con la gamba sinistra indossava stivali da caccia dalla suola molto spessa fuma sigarette indiane adopera un bocchino e ha in tasca un temperino spuntato ci sono parecchie altre indicazioni ma queste possono essere sufficienti ad aiutarci nella nostra ricerca Lestrade scoppiò a ridere temo proprio di essere scettico al riguardo disse le teorie vanno tutte molto bene ma noi avremo a che fare con una giuria inglese composta da persone dalla testa dura non verrò ribatte Holmes tranquillamente voi proverete con il vostro metodo e io lavorerò con il mio sarò occupato questo pomeriggio e probabilmente ritornerò a Londra con il treno della sera e lascerete il caso incompiuto no è concluso ma il mistero è risolto e chi è il colpevole allora la persona che vi ho descritto ma chi è di certo non dovrebbe essere difficile scoprirlo questa non è una zona molto popolata Lestrade si strinse nelle spalle sono un uomo pratico disse e non è da me andarmene in giro cercando un mancino con una gamba di legno diventerei lo zimbello di Scotland Yard d'accordo disse Holmes tranquillamente io vi ho dato la possibilità eccoci arrivati al vostro albergo arrivederci vi scriverò due righe prima di partire dopo aver lasciato Lestrade al suo albergo ci dirigemmo al nostro hotel dove trovammo il pranzo sul tavolo Holmes era silenzioso e immerso nei suoi pensieri con un'espressione addolorata dipinta sul viso come di chi si trova in una situazione imbarazzante venite qui Watson mi disse quando la tavola fu sparecchiata sedetevi su questa sedia e lasciate che vi annoi per qualche minuto non so proprio che cosa fare e vorrei un vostro consiglio accendetevi un sigaro e lasciate che vi esponga la situazione vi prego di farlo dunque considerando questo caso ci sono due punti in ciò che il giovane McCarthy ci ha raccontato che ci hanno colpito immediatamente sebbene abbiano colpito me a suo favore e voi a suo sfavore uno era il fatto che suo padre avesse secondo quanto egli ci ha riferito gridato co prima di averlo visto l'altro era quel suo stranissimo riferimento fatto in punto di morte a un ratto ha borbottato molte parole come anche voi sapete ma l'unica che il figlio è riuscito a distinguere chiaramente è stata questa ora la nostra ricerca deve procedere da questi due punti e noi li incominceremo presumendo che ciò che il giovane dice sia assolutamente vero che cosa mi dite di questo grido co allora beh ovviamente non poteva essere diretto al figlio il figlio per quanto ne sapeva lui si trovava a Bristol si è trattato di un puro caso che egli si trovasse tanto vicino a lui da poterlo sentire quel grido di richiamo era volto ad attirare l'attenzione della persona con cui McCarty aveva quell'appuntamento ma co è chiaramente un segnale di richiamo australiano che si usa tra australiani è presumibile che la persona che McCarty si aspettava di incontrare al laghetto di Boscomb fosse qualcuno che era stato in Australia e che mi dite del ratto allora Sherlock Holmes estrasse dalla tasca un foglio di carta piegato e apertolo lo dispose sopra il tavolo questa è una carta geografica della colonia di Victoria disse ieri sera ho telegrafato a Bristol affinché me la spedissero con la mano coprì una parte della carta che cosa leggete rat lessi io e adesso mi chiese sollevando la mano balla rat proprio così e questa è la parola che l'uomo ha mormorato e della quale il giovane ha colto solamente l'ultima sillaba il vecchio megarti stava tentando di dire il nome del suo assassino il tizio tal dei tali di ballarat è fantastico esclamai è ovvio e in questo modo vedete ho potuto restringere notevolmente il campo degli indiziati il possedere un indumento grigio era un terzo punto che sempre ammettendo che l'affermazione del giovane fosse corretta era una certezza siamo quindi giunti dalla più totale incertezza a un'immagine ben definita di un australiano di ballarat con un soprabito grigio certamente e si tratta di qualcuno che era di casa al distretto poiché il laghetto può essere raggiunto solamente dalla fattoria o dalla proprietà di mccarty dove è molto improbabile che un estraneo possa bighellonare proprio così arriviamo quindi alla nostra spedizione di oggi esaminando il terreno ho raccolto quegli insignificanti i dettagli sulla personalità dell'assassino che ho riferito a quell'imbecille di Lestrade ma come avete fatto a dedurli conoscete il mio metodo si basa sull'osservazione di sciocchezze per quanto riguarda l'altezza dell'assassino so che potevate stimarla grossomodo in base all'ampiezza dei suoi passi e anche il tipo di stivali lo si poteva ricavare dalla natura delle impronte che ha lasciato è così si tratta di un paio di stivali particolari ma il fatto che zoppicasse il segno lasciato dal piede destro era sempre meno definito di quello lasciato dal piede sinistro su cui poggiava il peso del corpo perché? perché zoppicava era zoppo e come avete dedotto che fosse mancino? voi stesso siete rimasto colpito dal tipo delle ferite descritte dal medico legale durante l'inchiesta il colpo è stato inferto da dietro e ciò nonostante ha interessato la parte sinistra ora come sarebbe potuto avvenire se non per opera di un mancino questi era rimasto nascosto dietro quel grosso albero durante tutto il colloquio tra padre e figlio e ha anche fumato stando lì ho trovato la cenere di un sigaro che le mie speciali conoscenze in materia di tabacco mi consentono di riconoscere come proveniente da un sigaro indiano come sapete mi sono occupato di questo argomento scrivendo anche una breve monografia sulla cenere di 140 diversi tipi di tabacco da pipa sigaro e sigaretta dopo aver trovato la cenere ho cercato in giro e ho trovato il mozzicone tra il muschio dove egli lo aveva buttato si trattava di un sigaro indiano della qualità che viene prodotta a Rotterdam e il bocchino? mi sono accorto che l'estremità del sigaro non era stata messa in bocca perciò era chiaro che avesse usato un bocchino la punta del sigaro era stata recisa non strappata con i denti ma il taglio non era perfetto e così ne ho dedotto che avesse usato un temperino spuntato Holmes dissi io avete gettato attorno a quest'uomo una rete dalla quale non potrà sfuggire e avete salvato la vita di un innocente proprio come se aveste reciso di netto la corda che sarebbe dovuta servire per impiccarlo ho capito in quale direzione vanno a parare tutti questi dettagli il colpevole è il signor John Turner annunciò il cameriere dell'hotel aprendo la porta del nostro salotto e facendo entrare un visitatore l'uomo che fece il suo ingresso nella stanza aveva una figura scarna e un'aria imponente il passo lento e claudicante e le spalle piegate in avanti gli conferivano un aspetto decrepito ma i tratti duri e ben delineati che parevano scolpiti nella roccia e la corporatura massiccia testimoniavano un'enorme forza fisica e di carattere la barba leggermente arruffata i capelli brizzolati le sopracciglia ben marcate contribuivano a conferire al suo aspetto un'aria di dignità e di potere ma l'uomo aveva la faccia pallida come un lenzuolo mentre sulle labbra e sugli angoli delle narici c'era un'ombra bluastra mi bastò un'occhiata per capire immediatamente che si trovava nelle spire di una malattia cronica e mortale prego accomodatevi sul divano gli disse Holmes gentilmente avete ricevuto il mio messaggio sì me l'ha portato il custode dicevate che preferivate vedermi qui per evitare lo scandalo pensavo che la gente avrebbe mormorato se mi avesse visto venire da voi e perché desideravate vedermi l'uomo guardò il mio amico con la disperazione negli occhi stanchi come se la sua domanda non avesse bisogno di risposta sì disse Holmes rispondendo al suo sguardo più che alle sue parole è così so tutto di McCarthy il vecchio si prese la testa tra le mani che Dio mi aiuti esclamò ma non avrei permesso che venisse fatto del male al ragazzo vi do la mia parola che avrei parlato se le cose si fossero messe male per lui nel corso dell'assise sono lieto di sentirlo replicò Holmes con gravità avrei già confessato se non fosse stato per la mia cara bambina le si sarebbe spezzato il cuore le si spezzerà quando sentirà che sono stato arrestato forse potremmo non arrivare a questo cosa? non sono un agente ufficiale da quel che ho capito è stata vostra figlia a richiedere la mia presenza qui e io agisco nel suo interesse comunque il giovane McCarthy deve essere tirato fuori da questa faccenda io sto morendo disse il vecchio Turner ho il diabete da anni il mio dottore dice che non sa neanche se riuscirò a vivere ancora un mese tuttavia preferirei morire nel mio letto che in una cella Holmes si levò e sedette a tavolino con una penna in mano e una risma di fogli davanti a sé raccontateci la verità disse io butterò giù i fatti voi firmerete e Watson farà da testimone mi avverrò della vostra confessione solo nel caso estremo in cui dovesse servire per salvare il giovane McCarthy vi prometto che non la userò a meno che non sia assolutamente necessario per me va bene disse il vecchio non sono neanche sicuro di riuscire a vivere fino alla prossima assise e mi importa poco ma vorrei solamente risparmiare alla mia Alice questo colpo e ora vi dirò tutto è una storia molto lunga ma non ci metterò molto a raccontarvela voi non conoscevate la vittima McCarthy era il diavolo in persona potete credermi che Dio vi tenga lontano dalle grinfie di un uomo come quello mi ha tenuto in pugno per questi vent'anni e mi ha rovinato la vita prima di tutto vi racconterò come mai sono caduto in suo potere eravamo agli inizi degli anni sessanta alle miniere d'oro io ero molto giovane allora impulsivo e incauto sempre pronto ad allungare le mani su ogni cosa iniziai a frequentare delle cattive compagnie presi a bere non ebbi fortuna con il terreno che mi era stato assegnato mi diedi alla macchia e per dirla breve divenni un ladro eravamo in sei e la cosa ci rendeva bene agivamo sulle strade fermandoci di tanto in tanto alle stazioni o bloccando i convogli diretti alle miniere mi facevo chiamare black jack di ballarat e la nostra banda viene ancora ricordata nella colonia come la gang di ballarat un giorno arrivò un convoglio d'oro da ballarat diretto a melbourne noi lo stavamo aspettando e l'attaccammo c'erano sei soldati che scordavano il convoglio e noi eravamo in sei si trattò quindi di una lotta alla pari ma piuttosto dura tuttavia riuscimmo a svuotare le loro selle al primo colpo anche se tre dei nostri rimasero uccisi prima che riuscissimo a scappare io puntai la pistola alla testa del capo convoglio che era proprio questo McCarthy avesse voluto il dio che l'uccidessi allora ma lo risparmiai anche se vidi i suoi piccoli occhi cattivi puntati su di me come se stesse compiendo uno sforzo per imprimersi nella mente ogni particolare del mio viso infine scappammo con loro divenimmo ricchi e ritornammo in Inghilterra senza che nessuno sospettasse nulla una volta qui mi separai dai miei vecchi compagni e decisi di condurre una vita tranquilla e rispettabile comperai questa proprietà che il caso volle fosse in vendita e cominciai a destinare parte dei miei soldi a scopi benefici per riparare al modo in cui li avevo guadagnati mi sposai anche e sebbene mia moglie morì molto giovane mi lasciò la mia cara piccola Alice sin da quando era molto piccola mi pareva che la sua manina mi guidasse lungo la retta via come prima di allora niente e nessuno erano mai riusciti a fare in altre parole girai pagina e feci del mio meglio per rifarmi del mio passato e tutto stava andando per il meglio quando caddi nelle grinfie di McCarthy mi ero recato a Londra per un investimento e lo incontrai a Regent Street che aveva appena di che vestirsi oh eccoti qui Jack mi disse toccandomi il braccio saremo come una famiglia per te siamo in due mio figlio e io e ti potrai prendere cura di noi se non lo farai beh l'Inghilterra è un magnifico paese rispettoso della legge e c'è sempre un poliziotto a portata di voce beh vennero qui a Ovest e non ci fu più modo di scrollarmeli di dosso da quella volta sono sempre vissuti gratuitamente sulla parte migliore della mia terra non ci furono più per me riposo pace possibilità di dimenticare il mio passato dovunque mi volgessi mi ritrovavo sempre davanti la sua faccia scaltra che soghignava e le cose peggiorarono quando Alice crebbe perché egli si rese conto che avevo più paura che lei scoprisse il mio passato di quanta ne avevo che lo scoprisse la polizia qualunque cosa volesse la doveva avere e di qualunque cosa si trattasse gliela davo senza fare questioni terra soldi case finché mi chiese qualcosa che non potevo dargli mi chiese Alice suo figlio vedete era cresciuto e così pure la mia bambina e dato che sapeva che non godevo di buona salute gli sembrò un'ottima idea che il suo ragazzo mettesse mano su tutta la proprietà ma io ero irremovibile non avrei mai permesso che la sua maledetta razza si mescolasse con la mia non che avessi niente contro il ragazzo ma aveva il suo sangue e ciò mi bastava ero risoluto McCarthy mi minacciò io lo provocai al peggio dovevamo incontrarci al laghetto a metà strada tra casa sua e casa mia per parlarne quando arrivai al luogo convenuto lo trovai che parlava con suo figlio così mi fumai un sigaro nascosto dietro a un albero aspettando che rimanessimo da soli ma mentre lo ascoltavo parlare con il figlio tutta la rabbia e l'amarezza che avevo in me divennero incontenibili stava insistendo che il figlio sposasse mia figlia con un tale disinteresse per quanto potesse pensarne lei che mi sembrava stesse parlando di una sgualdrina di strada divenni pazzo all'idea che ciò che possedevo di più caro fosse in balia di un individuo di quel genere non potevo forse liberarmi da quel maledetto vincolo ero già un uomo condannato e senza speranza sebbene abbia ancora la mente lucida e il corpo forte sapevo che il mio destino era segnato ma la mia memoria è la mia bambina avrei potuto salvare entrambe se avessi messo a tacere quel demonio bene l'ho fatto signor Holmes e lo rifarei per quanto abbia beccato gravemente ho condotto una vita di martirio per espiare ma che anche mia figlia dovesse soffrire come io avevo sofferto questo non potevo sopportarlo lo colpì senza provare più rimorso di quanto ne avrei provato se si fosse trattato di uccidere qualche bestia velenosa il suo grido richiamò indietro il figlio ma io riuscì a nascondermi nel bosco anche se fui costretto a tornare indietro a recuperare il soprabito che mi era caduto durante la fuga questa signori è la storia vera di ciò che è accaduto beh non spetta a me giudicarvi disse Holmes mentre il vecchio firmava il verbale che il mio amico aveva redatto mi auguro che non ci capiti mai di avere la tentazione di farlo me lo auguro anch'io signori e che cosa intendete fare considerando il vostro stato di salute niente voi stesso siete conscio del fatto che presto dovrete rispondere delle vostre azioni a una corte ben più alta dell'assise terrò la vostra confessione e nel caso in cui McCarty dovesse essere condannato sarò costretto a avvalermene in caso contrario non ne saprà mai nulla anima viva e il vostro segreto che voi siate vivo o morto sarà al sicuro qui con noi addio allora disse il vecchio solennemente e quando sarà il vostro momento di lasciare questa terra tutto avverrà in maniera molto dolce e tranquilla per tutta la serenità che avete dato a me in questa circostanza claudicando e tremando in tutta la gigantesca figura se ne uscì lentamente dalla stanza che Dio ci aiuti esclamò Holmes dopo un lungo ponderato silenzio perché mai il destino è tanto crudele con questi poveri vermi indifesi James McCarty fu assolto nel corso della assise in forza di un considerevole numero di obiezioni sollevate da Sherlock Holmes e sottoposte all'avvocato difensore il vecchio Turner visse ancora per sette mesi dopo quel nostro incontro ma ora è morto e ci sono molte buone ragioni per ritenere che i figli dei due vecchi vivranno felicemente assieme ignorando l'esistenza di quella nuvola nera che aleggia sul loro passato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti